ultimo otto per fare l'ultimo grido in cielo quello più bello per dire io c'ero amici di sportisti di ciao da salvo giraci benvenuti al marco tomaselli di caltanissetta e la finale del campionato under 17 siciliano cus balermo panormus tripoli l'attacco di nunzio marotta tripoli lo supera velocità passaggio in verticale verso il centro si va a girare rosato ecco il servizio profondo piaccese resiste alla carica il tiro il gol il vantaggio del cus palermo il gol della squadra giallo rosso nera che sblocca tutto immediatamente al dodicesimo poi in mezzo esce di salvo chi smanaccia un po tutto quel che ha potuto ha lanciato però il cus lungo la passa verso l'interno l'opportunità il tiro il gol per il 2 a 0 il cus palermo raddoppia la pratica sempre con piazzese il contropiede botte così valerio chimento rosato si gira benissimo calcia con il destro chimento la lascia lì messina sotto porta non può sbagliare 3 a 0 per il cus palermo finale ormai indirizzata verso la vittoria dei giallo rosso neri dietro geraci passaggio tra le linee di palumbo infatti abbastanza rischioso piazzese road per la tripletta davanti chimento piazzese supera il forza lì insiste ma c'è vitale ancora ben entrato il fisico fossentissimo per questo terzino verticalizzazione e se stassi c'è tocco sotto in porta 5 a 0 cus palermo non ce n'è per nessuno il gol di rubolo il tratto della panchina che dovrà giocare gli ultimi cinque minuti di questa partita per poi festeggiare pallone in verticale rubolo evita un avversario rubolo doppietta da sub entrato rubolo fa 6 a 0 per il cus palermo è una pista infinita e finisce così in largo anticipo il cus palermo è il campione del campionato under 17 siciliano 6 a 0 alla panormus il cus palermo accede alla fase nazionale il campionato under 17 regionale